Salve a tutti. Infatti, in questo momento mi veniva da pensare che è Dio che ha delle cose da far conoscere a noi. Non possiamo essere noi a dire, ma io conosco qui, conosco là. Perché quello che conosciamo potrebbe non essere affatto sufficiente per noi. Ma c'è bisogno di conoscere quelle cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano. C'è bisogno di conoscere quello che Dio desidera far conoscere. E' interessante il fatto che degli uomini duemila anni fa, parlo di Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri discipoli, si sono imbattuti nel conoscere delle cose che venivano da Dio. Orchestrate da Dio, dirette da Dio, sono stati partecipi di quella conoscenza che veniva da Dio. Anche Abramo fu partecipe di una conoscenza che era Dio a Daniela. Così pure anche Noè. Allora c'è una conoscenza che viene direttamente da Dio. I discepoli di Gesù acquisirono, furono partecipi, di una conoscenza che gli fu data da Dio. fu Dio a far conoscere a quegli uomini, cioè Pietro, Giacomo, Giovanni, Maria, eccetera, eccetera, delle cose di Dio. Allora, in quel tempo, degli uomini qui sulla terra furono partecipi di una conoscenza diretta da Dio. Penso che sia buono porci gli occhi sopra queste cose, perché Dio ci fa vedere che quegli uomini ricevettero una conoscenza promulgata da Dio. Fu Dio a far conoscere loro delle cose. Fu Dio a far conoscere a Maria, che sarebbe rimasta incinta. Fu Dio a far sapere a Pietro che Gesù era il Messia, il Cristo. Fu Dio a far conoscere a Pietro che Gesù era il Messia, il Cristo. Fu Dio a far sapere ad Abramo che lo avrebbe benedetto, che gli avrebbe dato una discendenza come le stelle del cielo. Fu Dio a dire a Noè che avrebbe mandato il diluvio e che doveva fare un'arca. Allora, in tutte queste cose noi vediamo che è stato Dio a portare qui sulla terra a degli uomini una conoscenza diretta da Lui. E' Dio che porta qui sulla terra una conoscenza. Allora, è stato Dio che ci fa vedere queste cose. Che è stato Lui a far conoscere a degli uomini le cose che gli erano utili. Vediamo questo. E' Dio che ce lo fa vedere. E' Dio che ci fa vedere che è stato Lui a portare una conoscenza ai discepoli di Gesù, una conoscenza di cui vi era veramente bisogno. E se uno non riceveva quella conoscenza stabilita, mandata da Dio, era tutta stoltezza. Se Abramo non avesse ricevuto la parola di Dio, sarebbe stato stolto. Se Noè non avesse ricevuto quella conoscenza che gli veniva da Dio in quel tempo, sarebbe stato stolto. Allora, Dio ci fa vedere che la sensatezza sta nel ricevere quella conoscenza che Lui, che Lui manda qui sulla terra. Allora, in quel tempo vi era quella conoscenza. Noè aveva bisogno di conoscere in quel momento, in quel tempo, quelle cose che Dio gli fece conoscere. Così pure Abramo, così pure ai tempi di Gesù. Però oggi, in questo tempo, Dio non ha della conoscenza che vuole portare qui sulla terra, che vuole far conoscere. Oggi Dio non parla più? Oggi Dio non c'è più? La Bibbia dice che è lo stolto, quello che ha detto, che Dio non c'è. Allora, questo ci deve far pensare che anche nel tempo presente Dio può avere una conoscenza che viene da Lui e che la dirige verso di noi e che noi dovremmo semplicemente riceverla. Come Noè ricevette quella conoscenza che gli veniva da Dio e la ricevette. Come Abramo e come anche i discepoli di Gesù ricevettero le cose che Dio voleva far conoscere in quel tempo. Così anche oggi. Gesù dice a tutte e sette le chiese dell'Apocalisse gli dice Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora possiamo dire che Dio è per noi, che Dio è per te. Dobbiamo dire ciò, che Dio è a nostro favore, che Dio si muove verso di noi per darci salvezza, per darci prosperità. Dio si muove verso di noi per darci vita, vita eterna. Dio agisce verso di noi per darci, per donarci e donarci cose buone. Se è detto che lo stolto ha detto che Dio non c'è, è chiaro che lo stolto si accorgerà in un determinato tempo che perde tutto quello che pensava di avere guadagnato. Lo stolto dovrà riconoscere che è stato veramente stolto. Quando uno perde tutto, dice ma sono stato proprio stolto. Ma quando uno guadagna tutto, dice ma che sapienza è questa? Mi viene in mente una parola che è scritta in Geremia, capitolo 8, versetto 9, dove viene detto «I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi». Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Che sapienza possono essi avere? Allora, la persona che dice che Dio non c'è è stolta, anche se pensa di essere sapiente. La persona che dice che Dio non c'è è stolta e dovrà vedere sopra di sé la propria stoltezza. Invece la persona che accetta la presenza di Dio accetta la vita. Perché è per grazia che si viene salvati. È per il suo amore, per la sua benignità. Perché è detto «Chi mi trova, trova la vita». E' una piccola frase. E' una piccola parola. E' una piccola parola che dice «Chi mi trova, trova la vita». Perché Gesù disse «Senza di me voi non potete fare nulla». Chi mi trova, trova la vita. «Senza di me non potete fare nulla». nulla. Allora, se viene detto che è lo stolto quello che ha detto, che Dio non c'è, è chiaro che il fatto di essere con Gesù, il fatto di essere con il proprio Dio, si viene resi partecipi della sua benedità, si viene resi partecipi della sua ricchezza. C'è un passo che dice, chi va con i savi diventa savio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Allora, se hai detto chi va con i savi diventa savio, poniamoci la domanda, chi va con i savi, il vero savio è Dio. Se il savio è Dio, quelli che vanno con Dio diventano savi. E' Dio che fa sapere queste cose. C'è bisogno di vergognarsi nel dirlo? Le persone che erano andate con Gesù, nel libro degli Atti viene detto, si riconosceva che erano stati con Gesù. Allora, se la scrittura dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è, se uno dice che Dio non c'è, è chiaro che non sarà insieme a Dio. voglio mettere in evidenza delle cose banali, ma è Dio che ce le fa vedere. Non ci fa forse Dio vedere che Abramo agì in maniera sapiente, intelligente, per il fatto che accettò di relazionarsi con Dio. Perché Dio ci fa vedere che Abramo, accettando di relazionarsi con Dio, ora noi vediamo Abramo che fu un personaggio importante, un personaggio che seppe fare le giuste scelte, ma la giusta scelta fu quella di accettare, di relazionarsi con Dio. Invece Dio ci fa vedere che tutte le persone che hanno rifiutato di relazionarsi con Lui sono state grandemente stolti. La stoltezza gli si era attaccata addosso. Le persone che rifiutavano di essere con Dio, che rifiutavano di relazionarsi con Dio, la stoltezza gli era addosso, era appiccicata loro. Invece le persone che hanno accettato di relazionarsi con Dio, Dio ci fa vedere che Dio ci fa vedere che sono stati savi, nel vero senso della parola, quelli che hanno accettato di relazionarsi con Lui. Ma quelli che hanno rifiutato la sua parola, sebbene si facessero chiamare savi, sebbene erano considerati ai savi, erano stolti. E' per questo motivo che in Geremia, capitolo 8, versetto 9, viene dichiarato dalla parola di Dio. I savi saranno confusi. Ovviamente questi savi qui sono dei falsi savi. Si credono savi, agli occhi del mondo vengono chiamati savi, ma saranno confusi. I savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi. Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Che sapienza possono essi? Ecco, hanno rigettato la parola dell'Eterno. Significa che Dio ha parlato. Significa che Dio ha fatto sentire la sua voce, la sua parola. E Dio fa sentire la sua voce, la sua parola, mediante la sua Chiesa. Perché? Perché quando Gesù fermò Saulo da Tarso, gli disse Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo in quel momento stava perseguitando i credenti, quelli che ascoltavano Gesù. E lì l'Apostolo Saulo si convertì, accettò di ascoltare la voce di Gesù, di relazionarsi con Dio. E dopodiché Dio l'ha usato e viene onorato. Però volevo mettere in evidenza il fatto che c'è la parola dell'Eterno. Possiamo dire che c'è la parola dell'Eterno. Hanno rigettato la parola dell'Eterno. Che sapienza possono essi avere? Allora possiamo dire con piena chiarezza che Dio viene verso di noi e ci parla. ci parla perché vuole il nostro bene. Mi viene in mente un passo che è scritto in Giovanni capitolo 3, versetto 16, un passo ben conosciuto che dice poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo. allora qui si vede come Dio è. E che cosa Dio ha fatto. Allora il passo dice perché Dio ha tanto amato il suo unigenito figliolo, cioè Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora possiamo dire che noi siamo amati da Dio. Dio ci ha amati ed ha dato il suo unigenito figliolo, Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca. Ma questo ci fa comprendere anche proprio il carattere di Dio. Cioè Dio non vuole che l'uomo perisca. Non lo vuole. e non è difficile pensare che Dio vuole benedirci. Allora la Bibbia ci fa vedere queste cose. Dio ha Dio ha voluto che vi fosse salvezza per Noè. Dio ha voluto che vi fosse benedizione per Abramo. Allora non è che Dio vuole veramente il nostro bene? Dio non vuole veramente il nostro bene? Dio non vuole veramente la nostra prosperità? Dio non vuole che noi abbiamo del bene? Allora il punto è che se noi speriamo di avere del bene senza Dio, ci illudiamo e siamo storti. La verità è questa qui. La sintesi è questa qui. Noi ci possiamo illudere di inseguire il bene e lo perderemo perché senza Dio la persona che dice che Dio non c'è è stolta e il bene che ha pensato di poter accumulare lo perderà. Lo stolto ha detto che Dio non c'è. Forse ci sta bene anche la storia che Gesù raccontò del ricco stolto. Allora in Luca capitolo 12 versetto 16 Gesù dice E disse loro questa parabola La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente Ed egli ragionava così fra sé Che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse questo farò. Demolirò i miei granai e ne costruirò altri più grandi. Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia Anima tu hai molti beni Ammassati per molti anni Riposati Mangia Bevi Divertiti Ma Dio gli disse Stolto Questa notte stessa L'anima tua ti sarà ridomandata E quel che hai preparato Di chi sarà? Però vorrei far notare il fatto che Dio parla a quest'uomo E gli parla l'ultimo giorno della sua vita E gli dice Stolto Lo chiama Stolto La cosa interessante è che Dio farà sentire la sua voce A quest'uomo Cioè ha fatto sentire la sua voce a quest'uomo E lo ha chiamato Stolto E se noi pensiamo a quel passo che dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è Vuol dire che L'uomo può o accettare di relazionarsi con Dio Di ascoltare Dio Oppure Può dire Dio non c'è E se ne sta lontano Viene detto del figlio prodigo Il padre figlio prodigo disse Questo figlio era morto Ed è tornato alla vita Però questo figlio a un certo momento Disse Tornerò da mio padre e dirò Ho peccato contro il cielo e contro di te Quando disse questa frase Che tornò poi a casa Il padre disse Questo figlio era morto Ed è tornato alla vita Se uno non si relaziona con Dio Se uno non ascolta la voce di Dio E' stolto E' morto Se uno Accetta La salvezza di Dio Come disse Gesù Poiché Dio ha tanto amato il mondo Che ha dato il suo migento figliolo Affinché chiunque crede lui Non perisca Ma abbia vita eterna Se uno accetta di avere relazione con Dio Vi è vita Vi è prosperità Vi è salvezza Non si perisce Ci sono delle buone notizie Per tutti quelli che accettano di relazionarsi con Dio Si scopriranno delle buone notizie Chi crede Ha Vita eterna Non dice avrà Ma uno ce l'ha già da subito Chi crede Ha Vita Allora a me piace Pensare Al fatto che Uno possa Avere relazione Con Dio E' bello tutto questo E' prezioso tutto questo E' possibile avere relazione con Dio Ed è bello avere relazione con Dio Perché la sua parola è vita Pietro disse Signora ma che ce ne andremo noi Tu hai parole di Vita Allora è interessante avere relazione con Dio Perché Dio Ha delle parole di vita Certo ha anche delle parole correttive Ci corregge Quando noi andiamo fuori strada O stiamo per andare fuori strada Allora se la scrittura dice che è lo stolto Quello che ha detto Che Dio non c'è Qualsiasi cosa che viene fatta Senza Dio Alla fine crollerà Ma tutto quello che viene fatto Ad ubbidire la parola di Dio Non crollerà Tutto quello che viene fatto Ascoltando Dio Rimarrà C'è un passo che dice Io onoro Quelli che mi onorano Ovviamente se uno non onora Dio Dio non lo può onorare Ma se uno accetta Di onorare Dio Sarà onorato Da Dio Perché viene detto Si riconosceva che erano stati con Gesù Si riconosceva che erano stati con Gesù Allora i discepoli di Gesù Avevano onorato veramente Gesù Erano stati con Gesù Avevano onorato Gesù Con la loro presenza Accettando di essere con lui Accettando di ascoltarlo Avevano veramente onorato Gesù E poi dopo è venuto il momento Che Dio ha onorato I discepoli di Gesù Li onora Dio opera così Ma Dio non ha potuto onorare Giuda Perché è stato quello che ha tradito Gesù E viene detto Chi mi sprezza Sarà avvilito Io onoro quelli che mi onorano E chi mi sprezza Sarà avvilito Allora Dio fa comprendere chiaramente Che lui è vivente E se uno accetta di relazionarsi con lui Accetta di ubbidigli E' tutta benedizione Anzi Dio dice Guarda io ti onoro Se tu accetti di onorarmi Io ti onoro Perciò la vera prosperità È relazionarsi con Dio La vera sapienza È ricevere la parola di Dio È relazionarsi con Dio E direi che è molto interessante Relazionarsi con Dio È importante Relazionarsi con Dio Gesù disse anche ai suoi discepoli Ho molte cose da dirvi Vuol dire che Quella relazione che avevano iniziata con Gesù Gesù intendeva portarla avanti E aveva ancora Molte cose da dire Quante cose Dio ha da dirci Quante cose per il nostro bene Dio ha da dirci E' Dio che ha delle cose da dire A noi Gli uomini a noi Non hanno niente di buono da dirci Qualsiasi uomo A meno che A meno che Non siano degli uomini Di Dio Che Dio manda a noi Per parlarci Allora sì Allora sì Chi riceve un giusto come giusto Riceve premio di giusto Chi riceve un profeta come profeta Riceve premio di profeta Allora Dio può mandare a noi delle persone E le manda E quelle persone buono riceverle Però quello che voglio dire è questo Che noi abbiamo bisogno proprio della parola di Dio Perché siamo amati da Dio E Dio ha delle parole per noi Dio vuole relazionarsi con noi Personalmente Dio ha delle parole Che vuole dire a noi personalmente Lo stolto ha detto che Dio non c'è Perciò è certo che Dio si vuole relazionare con noi E' certo che Dio si vuole relazionare con noi Io vedo che è interessante tutto ciò Perché in tutta la Bibbia si vede che Dio si relaziona con degli uomini E quelli che hanno accettato la sua parola Vengono onorati Hanno avuto salvezza Hanno avuto vita Ma quelli che hanno rifiutato la sua parola Dio ci fa vedere che sono stati Stolti Dio parlò con Caino Ma Caino non accettò la parola di Dio E Dio ci fa vedere che Caino fu stolto E la stoltezza era attaccata a lui Si attaccò ancora di più a lui Entrò maggiormente in lui la stoltezza Io direi che è interessante il fatto che Dio Vuole relazionarsi con noi Si Dio Vuole relazionarsi con noi E siamo noi che possiamo rifiutare Rigettare La relazione con lui La sua parola Cosa che Caino fece E che fecero anche molti religiosi ai tempi di Gesù Per la loro religione Per la loro religione umana Tradizione umana Rigettavano la relazione con Dio Avevano aggiunto alla parola di Dio Alla legge di Dio La loro tradizione Dicendo che andava benissimo Ma facendo così Rifiutavano di relazionarsi con Dio Io dico che è un grande dono Ed è un grande privilegio Il fatto di potersi Relazionare con Dio È un grande dono Oso dire che è la prosperità La vera prosperità Non l'illusione della prosperità Cito anche delle parole di Gesù Che mi hanno colpito anni fa Che Gesù disse Chi non è con me È contro di me E chi non raccoglie con me Disperde Dice Chi non raccoglie con me Disperde Perciò si comprende chiaramente Che la vera prosperità È relazionarsi Con Gesù Con Gesù Accettare di essere con Gesù Accettare di essere con Gesù È stabilito È stato decretato Che si raccoglie Come anche Si riconosce Che rifiutando Di essere con Gesù Si perderà Si disperderà E non è importante Quanto uno è ricco Perché perderà tutto Come ricco stolto A lui sembrava di essere ricco Credeva di essere ricco Ma Non avendo Dio Avendo rifiutato Di relazionarsi con Dio Era grandemente povero C'è un passo che dice Chi mi trova Trova la vita Ed è veramente così È veramente così I discepoli di Gesù Non trovarono una religione I discepoli di Gesù Trovarono una persona Noè non trovò una religione Ma trovò una persona Che gli parlava Così pure Abramo Abramo non trovò una religione Ma trovò una persona E questa persona Possiamo dire Che ha detto Chi mi trova Trova la vita E questa persona Dice anche Tutti quelli che mi odiano Amano la morte Tutti quelli che mi odiano Amano la morte E dichiaro Dichiaro anche una cosa Che Dio ci ha fatto sapere Che è scritto nell'Apocalisse Che vi è la morte Seconda E molto probabilmente La morte seconda E' di sicuro Più brutta Della prima Morte E' bello Che Pietro Quando Gesù parlava Sentiva Delle parole Di vita Quando Dio parla La sua parola E' parola di vita Ma quelli che rifiutano La parola di Dio Sentono Una parola Di morte Allora La parola di Dio Che accetta Di ascoltare La parola di Dio Sentirà Sentirà Un odore Di vita Chi accetta Di ascoltare La parola di Dio Sentirà Un odore Di vita Perché la parola Di Dio Ha Un odore Di vita Promette Vita E dà Vita Noè Sentì Una parola Che aveva Un odore Di vita Abramo Sentì Una parola Che aveva Un odore Di vita Pietro Nell'ascoltare La parola di Dio Nell'ascoltare Gesù Sentiva Un odore Di vita Possiamo dire Possiamo dire Che Dio Non ci ha Amati Che Dio Non ci ama La scrittura Dice Poiché Dio Ha Tanto amato Il mondo Che ha Dato Possiamo dire Di non essere Amati Da Dio Lo stolto Ha detto Che Dio Non c'è Lo stolto È colui Che Non accetta L'amore Di Dio E perciò È stolto Non accetta La ricchezza Che viene Da Dio E perciò È stolto Allora Se noi siamo Amati Da Dio Noi abbiamo Delle ricchezze Da parte Di Dio Perché Dio Ci ama Ed è Lui Che ha preparato Delle ricchezze Per noi E che noi abbiamo Semplicemente Accettandolo Ricevendolo Allora Si capisce Meglio Che si è Stolti A dire Che Dio Non c'è Perché è in Dio Che noi abbiamo Tutto E abbondantemente Allora Se Le persone Che hanno Ascoltato Dio Hanno sentito Un odore Di vita Vuol dire Che C'era La vita Preparata Da parte Di Dio E che Dio Ne parla Direi Che è interessante Ascoltare La voce Di Dio È molto Interessante Anche Giobbe Sebbene Era malato Però Nell'ascoltare La parola Di Dio Lui capiva Che la parola Di Dio Era una parola Di vita E poi fu anche Guarito Allora Direi proprio Che si è stolti A non Ascoltare La parola Di Dio Si è stolti A non Accettare Di Relazionarsi Con Dio La Bibbia Ci fa vedere Che È stato Buonissimo Relazionarsi Con Dio Ed è stato Orribile Essere legati Magari Da una Religione Perché la Religione Ti lega Ti imprigiona La tradizione Degli uomini Ti imprigiona Crea Delle Prigioni Quindi Invece È possibile Sentire La voce Di Dio Relazionarsi Con Dio È libertà Come ho detto Prima Noè Non Conobbe Una Religione Noè Noè Ascoltò La parola Di Dio Accettò Di Relazionarsi Con Dio Non si Relazionò Con una Religione Ma si Relazionò Con Dio Perché Non accettare Di Relazionarsi Con Dio Perché Non accettare La parola Di Dio Se uno Non accetta Di Relazionarsi Con Dio È Tutta Stoltezza Ora Volevo Concludere Ribadendo Il fatto Che è bello Sapere Che Dio È pronto Per noi È pronto Per Relazionarsi Con noi E che Aspetta A noi Accettare Di Relazionarci Con Lui Come fecero I discepoli Di Gesù Ascoltavano 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 E ascoltavano Perché Dio Parla E quello Che aspetta Lui È Ascoltare Perché Noè Ascoltò La parola Di Dio Abramo Ascoltò La parola Di Dio Pietro Giacomo Giovanni Ascoltarlo E A tutte e sette Le chiese L'Apocalisse Viene detto Di Ascoltare Perché È bello Sapere Che Dio Parla Ed ha Delle buone Parole Per noi In Cristo Gesù Amen Prendi la mia vita Prendi la signo E la tua fiamma Bruci nel mio cuore Tutto l'esser mio Vivri per te Sì Mio Signore E divino Fonte di vita Di pace Amor A te io grido La notte Vieni Vieni mia gioia E compitor di fe Se la notte Se la notte Nera Viene Agli occhi Miei Sì La mia stella Splendina Anzi A me Fonte Di vita Di pace Amor A te A te Io grido La notte E il dì Od Il mio Pianto E Mi sostiene Il tuo Timore Colmo D'ogni Ben Quando Signore Giunto Sarò Nella Tua Gloria Risplenderò Insieme Ai Santi Puri Di Cuor Per Non Lasciarti Eterno Amor Fonte Di Vita Di Pace Amor A te Io grido La notte E il dì Od Il mio Pianto E Mi sostiene Il Tuo Timore Colmo D'ogni Il 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 Tuo Timore Colmo D'ogni De Il Il Tuo Tuo Colmo